Buonasera e ben ritrovati nel nostro telegiornale in questa edizione notturna come sempre in diretta. La apriamo parlando subito della politica nazionale di Mattarella che oggi ha conferito a Giuseppe Conte il carico di formare il nuovo esecutivo. Il premier incaricato ha accettato con riserva, oggi stesso ha avviato a Montecitorio le consultazioni con i vari gruppi parlamentari, consultazioni che si concluderanno domani. Non sarà un governo contro, sarà un governo di novità, ha affermato Conte, rispetto appunto all'esecutivo che punta a formare sulla base della nuova maggioranza Movimento 5 Stelle PD. Lavoro, uguaglianza, Europa, tra i principi fondamentali, la legge di bilancio tra le priorità. I 5 Stelle intanto fanno quadrato intorno a Di Maio, che attacca lui e contro tutti noi, ha affermato il capogruppo al Senato Stefano Patuanelli, pentastellati che inoltre confermano il voto sulla piattaforma Rousseau. Noi ripiloghiamo la giornata con il servizio curato dal nostro Davide Zanirato. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ringrazio, mi ha conferito l'incarico di formare il governo, incarico che ho accettato con riserva. Oggi stesso avvierò le consultazioni con tutti i gruppi parlamentari e all'esito di questo confronto mi dedicherò a elaborare un programma insieme alle forze politiche che hanno spresso il loro sostegno a favore di questo nuovo progetto politico e che desidero sin d'ora qui ringraziare. È una fase molto delicata per il Paese. Dobbiamo uscire al più presto dall'incertezza politica innescata dalla crisi di governo. Il Presidente del Consiglio è incaricato, Conte, dopo aver lasciato il Quirinale, si è subito recato a Palazzo Giustiniani per un colloquio di un'ora e mezza con la Presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, poi alla Camera dove è stato ricevuto dal Presidente Fico. La prima delegazione ad essere ricevuta da Conte a Montecitorio nella Sala Busti è stata quella del gruppo misto Maie, le Autonomie. Le consultazioni proseguiranno domani con il PD alle 12.30, con il 5 Stelle alle 13.30. Alle 10.30 invece Conte vedrà la Lega, alle 9.30 Fratelli d'Italia, il cui incontro era inizialmente previsto per questa sera alle 19, ma è stato rinviato. A parlare oggi è anche uno dei possibili ministri del nuovo governo, il triestino Stefano Patuanelli, capogruppo al Senato dei Pentastellati, papabile alle infrastrutture. Così come circola il nome di Tommaso Cerno, che i rumors vorrebbero al Ministero delle pari opportunità. Credo che questo sia il modo in cui il Movimento 5 Stelle si è presentato agli elettori per la prima volta sul piano nazionale del 2013, il modo in cui ci siamo ripresentati nel 2018 e il modo in cui abbiamo raccolto più di 11 milioni di voti dei cittadini, perché noi mettiamo al centro la qualità della vita dei nostri concittadini. Ed è su questo che siamo concentrati in questo periodo. Non abbiamo mai smesso un secondo di lavorare. L'abbiamo fatto tutti i mesi dell'anno, compreso il mese di agosto. L'avremmo fatto comunque anche durante il mese di agosto, anche se non ci fosse stata questa assurda crisi che nessuno ci ha ancora spiegato perché è stata messa in atto. E Matteo Salvini, che domani non farà parte della delegazione della Lega, ha annunciato in una diretta via Facebook una manifestazione di piazza contro il governo Movimento 5 Stelle e PD prevista per il 19 ottobre a Roma. Allora noi vediamo un brevissimo estratto della sua diretta Facebook appunto. Tutti mi chiedete avrai mica intenzione di mollare? Mai, mai, dopo qualche minuto di rabbia, ma non per il mio destino personale o per qualche ministero, o per qualche poltrona, rabbia perché è in corso un furto di democrazia. Allora, questo è, una minoranza della minoranza litigiosa e sconfitta tutte le ultime elezioni sta cercando di rientrare dalla finestra dopo che gli italiani li hanno cacciati dalla porta e l'unico collante non sono i progetti, le idee, le infrastrutture, la scuola, la giustizia, le tasse, le riforme. L'unico collante sono le poltrone. E guarda caso le dichiarazioni più chiare da questo punto di vista, e le ringrazio, arrivano da Bruxelles e da Berlino. Noi prepariamo a esserci, nel nome dell'orgoglio, della compostezza, ma della fermezza, a Roma in tanti, in tanti, a metà ottobre. Vediamo come commentano la situazione della formazione del nuovo esecutivo l'esponente Dem Deborah Seracchiani e la leghista Vagna Gava. Ho avuto la possibilità di seguire le trattative veramente molto da vicino, anche perché, appunto, in qualità di vicepresidente del Partito Democratico faccio parte della cosiddetta cabina di regia che si è data il partito proprio per offrire a questa iniziativa politica la forza dell'iniziativa politica condivisa. Quindi abbiamo lavorato molto con il Movimento 5 Stelle sul programma e non è stato facile chiudere, diciamo così, sulla proposta del Presidente Conte. avremmo preferito una discontinuità, come abbiamo detto fin dall'inizio, ma devo dire che si sono create le condizioni perché si possa partire con il Presidente incaricato ad un ragionamento molto intelligente e anche molto interessante. Devo dire che le sue prime parole vanno in questa direzione, riconosce la necessità di un accordo politico, di superare il tema del contratto e riconosce anche quelle che sono le esigenze ormai stringenti del Paese, e cioè il fatto di fare una manovra di bilancio ormai alle porte. Stiamo assistendo alla nascita di un governo fatto e chiesto soprattutto fuori confini italiani. Infatti abbiamo visto che adesso la borsa è in positivo, lo spread scende, tutto bello, tutto bellissimo. È un governo nato contro la Lega e questo è evidente, contro la Lega. E quindi è un governo che si è spostato completamente a sinistra. Il Presidente Mattarella non ha voluto dare ascolto ai partiti e soprattutto alla Lega che chiedeva di tornare al voto subito, di tornare a sentire gli italiani dopo soprattutto le elezioni europee, tutte le regionali che ci sono state, dove ovviamente sono cambiati di molto gli equilibri rispetto all'anno scorso. Ha preferito invece dare mandato a Conte per un Conte bis. Io credo che questo governo non sia un governo di sicuro che fa gli interessi degli italiani e dei cittadini italiani. E da Roma spostiamoci in Friuli Venezia Giulia ripilogando alcune delle principali notizie odierne di cronaca attraverso le nostre flash news. Nuovo atto intimidatorio nei confronti del giornalista della redazione RAI regionale Giovanni Taormina che stamattina ha trovato sul sedile della propria auto tre proiettili. La vettura era parcheggiata davanti alla sua casa ed era regolarmente chiusa. Sul posto il personale della polizia per le indagini. L'11 aprile Taormina aveva ricevuto analoghe minacce trovando sul muro di recinzione della sede RAI di Udine una busta lui indirizzata contenente due proiettili insieme a una foto del suo viso cerchiato e coperto da una croce. Presentata denuncia alla questura il plico era stato sequestrato e analizzato dalla polizia scientifica. Gli investigatori avevano ipotizzato che la minaccia fosse legata all'attività svolta dal giornalista che si è spesso occupato di criminalità organizzata. La titante aveva cambiato sembianze per sfuggire ai controlli portando barba e capelli lunghi accorgimenti che però non sono bastati per sfuggire alla polizia a uno spacciatore 24enne afgano già coinvolto nell'operazione antidroga Magnolia che lo scorso marzo aveva portato 35 arresti in borgo stazione. L'uomo, già arrestato allora, era stato destinatario della misura cautelare del divieto di dimora in Udine. Gli agenti della questura avevano poi accertato che l'afgano era rimasto in città segnalando nel giro di pochi giorni quattro violazioni al divieto tanto che la misura era stata aggravata con la custodia cautelare in carcere. Ieri è stato riconosciuto da due agenti e arrestato. Nuova scossa di terremoto stamattina alle 10.54 in Friuli i sismografi hanno registrato un evento di 2.5 gradi con epicentro nella zona di Bordano non si segnalano danni gli ultimi episodi significativi si erano registrati a metà giugno nella zona di Tolmezzo e in Carnia il 7 luglio e ancora il 28 luglio con una scossa di 2.7 della scala Richter con epicentro a Fanna e una di 3.2 gradi a un chilometro nord-est di Maiano. Era stata arrestata nell'ambito dell'operazione Soleman condotta dal nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale di Trieste più di 20 giorni fa per aver rubato la pensione di un'ottantenne triestina. Dopo una breve parentesi in carcere le erano stati concessi i domiciliari ma dopo aver disatteso in più di un'occasione le restrizioni previste per lei si sono riaperte le porte di una cella. Alla luce dell'ennesima violazione su disposizione del giudice la misura è stata infatti mutata in ordinanza di custodia cautelare in carcere in sostituzione della detenzione domiciliare. Operazione congiunta tra la compagnia Carabinieri di Eurisina e la polizia locale di Trieste che ha portato all'arresto di un trafficante di droga mentre importava 180 grammi di eroina dalla Slovenia. Grazie all'intensificazione delle attività preventive relativa allo spaccio e al consumo abituale di stupefacenti è stato individuato il 55enne triestino già noto nell'ambiente con numerosi precedenti. La sostanza che avrebbe fruttato diverse migliaia di euro era destinata alla piazza di Trieste dove si registra un aumento del consumo di droghe pesanti. E restiamo a Trieste dove gli agenti della polizia di frontiera hanno rintracciato nella mattinata 55 migranti al di qua della frontiera con la Slovenia nell'ambito delle ordinarie attività di controllo. Si tratta di cittadini pakistani e afghani maschi tra cui 4 minorenni in viaggio con le rispettive famiglie. Tutti hanno presentato richiesta di asilo. La polizia di frontiera di Trieste nella notte dello scorso 26 agosto ha inoltre arrestato in località Fernetti due cittadini kossovari un 32enne residente in Germania e un 23enne. Il primo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina il secondo per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Dal controllo infatti è emerso che il 32enne alla guida di un'auto con targa tedesca stava trasportando 4 connazionali privi dei requisiti per l'ingresso e soggiorno in Italia. L'uomo si trova ora nel carcere locale del coroneo. Il passeggero 23enne ha invece esibito una carta d'identità belga risultata poi falsa. Quest'ultimo è stato immediatamente scarcerato per essere riamesso in Slovenia insieme agli altri tre passeggeri kossovari come previsto dagli accordi bilaterali. Tavoli per prevenire le crisi aziendali e dentro l'autunno il varo di un disegno di legge regionale denominato sviluppo impresa per realizzare politica appunto a supporto delle aziende. In vista di questi obiettivi e in particolare della stesura finale del DDL già in bozza l'assessore regionale all'attività produttiva Sergio Emiliobidi ha incontrato oggi a Udine i sindacati ai quali ha chiesto di presentare alcune proposte in un documento entro le prossime settimane. Io sono convinto che quando si parla di economia quando si parla di posti di lavoro non esistono né colori politici né ideologie deve esistere solo la responsabilità da parte di tutti per intervenire per aiutare l'economia del nostro paese nella fattispecie della nostra regione. L'incontro di oggi che ha visto la presenza di tutti i sindacati vuole appunto andare verso questa strada. Ci siamo dati l'impegno di contribuire a più mani alla scrittura di quello che sarà il DDL che presenteremo in autunno lo sviluppo in presa. Sono convinto che i sindacati possano e debbano dare un apporto positivo e costruttivo alla norma. I temi sono tantissimi. Noi come CISL avevamo segnalato poco tempo fa il permanere e il perdurare di diverse crisi almeno nelle imprese sindacalizzate che vuol dire che ce ne sono altre che non conosciamo e la necessità di mettere in campo strumenti di sistema che affrontano la crisi sia nell'impresa in causa ma anche accompagnando ovviamente il sistema produttivo nel suo complesso. Pensiamo alle ricollocazioni, al tema della formazione e così via. Come sindacato la situazione occupazionale continua a preoccuparvi? Sì, noi stiamo assistendo da meno fine dello scorso anno un rallentamento dell'economia in regione a macchia di Lopardo e ovviamente non ha le dimensioni della crisi del 2008 ma è chiaro che la crisi internazionale, i dazi, il rallentamento della Germania la stessa situazione politica italiana che è sempre in bilico non aiuta. Questo senzato ci preoccupa anche perché sono sempre di più le aziende che ci stanno chiedendo cassa integrazione messa in solidarietà dei lavoratori, si allungano le ferie e ha ripreso un po' questo fenomeno. A Porcia invece in occasione delle celebrazioni del centenario delle attività di Electrolux il governatore Massimiliano Fedriga ha rivolto un sentito grazie a nome della comunità regionale al gruppo svedese e questo per aver creduto nel territorio del Friuli Venezia Giulia nelle maestranze qualificate che vi operano nelle potenzialità logistiche dell'area. Raccogliendo l'eredità lasciata dalla Zanussi il gruppo ha deciso a suo tempo infatti di mantenere a Porcia una parte importante dell'attività un sito dove lavorano 6.000 dei 50.000 dipendenti dell'intera azienda e mira valorizzare ora in prospettiva le eccellenze della ricerca esistenti nell'area. Electrolux in occasione del centenario della fondazione ha presentato anche a Porcia il Better Living Program un piano a favore di uno stile di vita migliore e più sostenibile per i consumatori di tutto il mondo fino al 2030. Da Porcia rispostiamoci a Udine dove la giunta Fontanini ha cambiato idea sull'impianto di cremazione non sarà infatti realizzato al cimitero di San Vito bensì a Paderno. La città di Udine avrà un nuovo impianto di cremazione la struttura non sorgerà più in prossimità del cimitero di San Vito come ipotizzato dalla precedente giunta ma nel campo santo di Paderno. La conferma arriva direttamente dal sindaco Pietro Fontanini che aveva già ipotizzato questo espediente nei mesi scorsi che ora diventerà realtà. La decisione è stata maturata principalmente per questioni tecniche l'intenzione infatti è quella di realizzare un forno crematorio all'avanguardia e funzionale con una sala del commiato attrezzata. Se questo progetto verrà spiegato nei minimi dettagli la prossima settimana un altro ha già ottenuto il via libera dalla giunta si tratta di nuove fermate dell'autobus pensate per persone disabili o portatrici di handicap che finalmente potranno utilizzare per corsi e accessi ai mezzi pubblici più agilmente. Abbiamo approvato in giunta un finanziamento di 200.000 euro che va ad approvare il progetto di fattibilità. Questo progetto di fattibilità sulle 13 fermate degli autobus non sono solo il cambio della pensilina ma anche la sistemazione di tutto il circondario alla fermata in modo tale che possano essere accessibili a portatori di handicap alle mamme con le carrozzine e alle persone anziane. Vado a elencarle perché è giusto che ci siano i nomi via Marco Volpe, angolo via Viola, via Alessandria piazza Giovanni XXIII a Cusignacco via Foni di Sotto, via Nimis, via Pozzuolo via Manzoni, via Paparotti, via Leonardo da Vinci via Renati, via Di Toppo via Riccardo Di Giusto via Lea d'Orlandi via Misani-Martignacco poi se durante la gara avremo un ribasso vedremo se riusciamo ad aggiungerne io avrei piacere almeno altre due ne avremo altre 20 pronte come progettazione però ovviamente abbiamo bisogno dei soldi. Anche l'azienda sanitaria 2 Bassa Friulana Isontina ha aderito al progetto di Federfarma per la prenotazione delle visite specialistiche direttamente in farmacia. Vediamo. Si potranno effettuare le prenotazioni per le visite specialistiche anche nelle farmacie del territorio dell'azienda sanitaria 2 Bassa Friulana Isontina un servizio vantaggioso sotto diversi punti di vista considerando che sarà possibile avvalersi dell'esperienza dei consigli del farmacista che opererà sempre più in stretto contatto con i medici di famiglia inoltre tramite un apposito POS si potrà pagare il ticket direttamente in farmacia con il Bancomat Si tratta di un importante passo per essere sempre più vicini ai cittadini alle esigenze di salute del territorio sicuramente ogni farmacia aderirà spontaneamente quindi volontariamente a questo servizio che come previsto si svolgerà in tutte le farmacie e quindi permetterà a ciascun cittadino di avere a disposizione questo servizio vicino a casa e quindi con la possibilità di chiedere anche un consiglio al proprio farmacista di fiducia Sulla base dell'esperienza fatta nelle altre province quali sono i risultati? È un servizio utile e importante da costruire insieme con l'azienda sanitaria in quanto richiede anche un forte coinvolgimento sia per quanto riguarda non solo la prenotazione ma anche proprio il coordinamento con il medico e con le strutture sanitarie quindi è l'inizio di un percorso che noi auspichiamo sarà sempre più importante l'integrazione della farmacia sul territorio con i servizi del servizio sanitario regionale A Udine mancano due settimane all'avvio della venticinquesima edizione di Friuli Doc e noi nel prossimo servizio facciamo il punto sui principali spettacoli previsti Friuli Doc 2019 Eno Gastronomia e anche tanta musica quest'anno per la Kermess più importante di Udine Per la venticinquesima edizione sono previsti concerti e spettacoli per tutta l'età e per tutti i gusti grazie ai diversi eventi previsti per le piazze della città Punto centrale per quanto riguarda i concerti sarà Piazza Libertà qui si esibiranno tra gli altri Ruggero dei Timini, The Mad Scramble e Noemi L'artista veneta, stella della seconda edizione italiana di X Factor chiuderà Friuli Doc con la sua esibizione domenica 15 settembre alle ore 21.30 anche il castello sarà in prima linea per gli eventi musicali qui i visitatori potranno assistere alle performance di Rumatera gruppo punk rock veneziano conosciuto per il suo uso del dialetto ma ci sarà anche Micola Arpa Rock unica arpista rock d'Europa ai patiti della musica elettronica ci penserà Ilisa producer friulana con collaborazioni eccellenti nel settore Largo ospedale vecchio sarà l'ultimo punto di raccolta per gli appassionati della musica qui si esibiranno le Living Dolls cinque uomini sulla cassa del morto una tribute band di Vasco Rossi e gli amici della fisarmonica Friuli Venezia Giulia sono previsti infine gruppi itineranti tutti caratterizzati da un forte legame con il territorio e le tradizioni friulane tra loro ci saranno il gruppo medievale di Prachiuso gli Sissi Lutis di Attimis e il gruppo Stelutis di Udin e da Friuli Doc la cui 25esima edizione dunque in programma tra giovedì 12 settembre e domenica 15 passiamo ora allo sport nel prossimo servizio vediamo dunque da che cosa è stata caratterizzata la giornata odierna dell'Udinese di Tudoro in vista della partita contro il Parma di domenica ricordiamo che domani dalle 16.30 i giocatori Jajalo e Nestorovski incontreranno i tifosi in curva nord vediamo problemi tra virgolette piacevolissimi problemi di abbondanza per mister Igor Tudor a tre giorni dalla seconda giornata di campionato ancora la Dacia Arena domenica alle 20.45 contro il Parma l'Udinese ha fatto un'ottima partita una grande partita contro il Milan esordito come meglio non avrebbe potuto fare nel campionato 19-20 e allora a questo punto si pongono di piacevoli dilemmi per il tecnico croato perché lo zoccolo duro la squadra all'undice che è sceso in campo contro i rossoneri ha dato ottime garanzie ha messo in campo una prestazione super però parallelamente c'è una piacevole abbondanza di scelte soprattutto un po' in tutti i reparti ma soprattutto quelle più stuzzicanti sono tra centro campo ed attacco perché con Rodrigo De Pol che ad esempio era partito alla panchina contro i rossoneri ma che scalpita e si allena a pienissimo regime è davanti dove il ballottaggio con lasagna Pussetto, Onilia, Nestorowski che anche quando è entrato nel finale della sfida col Milan ha fatto capire di essere assolutamente sul pezzo quest'oggi la squadra ha lavorato due volte al mattino e al pomeriggio ma da un punto di vista tattico e delle scelte naturalmente ancora non si è sbottonata perché al mattino il gruppo ha lavorato alternato tra campo e palestra concentrandosi su possesso palla e fasi di finalizzazione alla sera dopo le prime fasi di attivazione ed atletica prima di dedicarsi a dei focus tattici si è lavorato con il pallone con De Torelli e poi con delle esercitazioni 3 contro 3 a campo ridotto dopodiché è calata un po' la scura e tra virgolette sull'allenamento con il mister che ha iniziato a provare i dettami tattici in vista della sfida di domenica contro il Parma domenica contro il Parma ci si aspetta a rivedere quella da Ciarina trainante che è sempre stato un fattore nel corso anche dell'ultima stagione ma soprattutto contro il Milano quando era agrimita ebbene i biglietti a prezzi vantaggiosissimi restano ancora in vendita e proprio per questo domani dalle 16.30 chi vorrà acquistare il tagliando avrà la piacevole sorpresa di incontrare in Curva Nord all'Udinese Point Matoiaia all'Udinese Alestronovski un po' come era successo anche nella giornata di ieri quando era stato il turno di Samir e Bekao addetti alle vendite d'eccezione appuntamento a partire dalle ore 16.30 mentre per tutto il resto della squadra l'appuntamento sul campo del Bruseschi sarà domani alle ore 18 per l'unico allenamento di giornata vediamo anche dal sito dell'Udinese la notizia riguardante il trofeo Rocco l'Udinese infatti ha avuto accesso ai quarti l'Udinese Under 17 passa sul filo di lana al secondo posto la fase a gironi del trofeo Rocco leggiamo nel sito superando per 1-0 a Cividale i messicani del Toluca una terza giornata che si chiuda in maniera incredibile con i bianconeri e i sudamericani appaiati in classifica per punti differenza reti e totale dei gole realizzati Lazio prima per miglior differenza reti c'è voluto dunque il criterio del fair play c'è il minor numero di cartellini ricevuti per decretare la qualificazione dell'undici di mister Giaiatti atteso domani sera a San Canzian di Sonzo dalla sfida al Deportivo Calì parliamo ora anche del sorteggio che c'è stato a Monte Carlo per quanto riguarda i gironi per la Champions League la Juve ha pescato l'Atletico Madrid il Bayern Leverkusen e la Lokomotiv Mosca l'Inter dovrà invece vedersela con Barcellona Borussia Dortmund e Slavia Praga il Napoli affronterà Liverpool Salisburgo e Genk l'Atalanta trova Manchester City Shakhtar Donetsk e Dinamo Zagabria così dunque attraverso il sito anche che vediamo ci spostiamo però da questa notizia anche a Cormons dove c'è stata la presentazione dei calendari dilettanti noi vediamo dunque l'intervista a Hermes Canciani presidente della PGC regionale una giornata importante la presentazione dei calendari che momento sta vivendo il movimento calcistico della regione? sta vivendo un momento importante l'inizio della nuova stagione che si presenta sicuramente molto molto competitiva devo dire che anche quest'anno tutta la società hanno temperato ai loro doveri in maniera esemplare e quindi questo è un segnale che tutto il movimento è in salute abbiamo avuto qualche defezione qualche defezione importante però ritengo che questo sia a causa del periodo storico che noi viviamo è un problema quindi il calo delle squadre secondo lei? ma non è un problema di calo delle squadre la differenza sostanziale è che non possiamo più ridire 10-15 anni fa c'era questa situazione perché 10-15 anni fa c'era un aumento demografico adesso c'è un decremento demografico quindi ci sono meno ragazzi che giocano a calcio ci sono meno risorse ci sono molte più incombenze e di conseguenza anche realtà importanti alla fine non riescono a sopperire a quelli che possono essere tutti gli adempimenti che uno è tenuto a fare società sempre più legate anche alla buona volontà dei presidenti, dei dirigenti? questa è una domanda vera, importante perché il mondo del calcio come non solo il mondo del calcio è fatto da volontari è nel calcio dei dilettanti sto dicendo quindi tutta gente che si alza lunedì e va sui campi e poi lavora tutta la settimana fino a questa benedetta domenica per vedere le partite quindi lo zoccolo del volontariato si sta piano piano indebolendo e quindi per necessità anche il mondo dello sport e del calcio ne subisce questa conseguenza quindi qual è il messaggio che invierà lei oggi? il messaggio che mandiamo è che questo è lo sport più bello del mondo e che se noi vogliamo che i nostri ragazzi crescano che diventano veramente uomini del futuro devono praticare degli sport perché lo sport è prima di tutto salute e poi è aggregazione è il modo per vivere quello che è la società del giorno d'oggi in una maniera corretta e dallo sport passiamo alle prime pagine dei quotidiani che domani saranno in edicola andiamo a confrontare le aperture delle prime pagine finora arrivati in redazione come sempre apriamo con la verità che titola così faccia da conte con sprezzo del ridicolo e della coerenza il premier uscente accetta l'incarico di formare un nuovo governo con una maggioranza diversa dopo aver giurato che non l'avrebbe mai fatto ho avuto più di un dubbio ma l'ho superato perché sono bravo le parole appunto riportate e la stampa che prima lo dileggiava ora lo copre di lodi così la verità andiamo e vediamo il foglio che rispetto a conte ha questo titolo ovviamente in evidenza in rosso l'avvocato del popolo è lo spread le borse in rialzo e i btp in festa incoraggiano i rosso gialli e ci ricordano una piccola verità per essere un buon avvocato del popolo occorre prima di tutto essere un buon difensore dei mercati la conversione di Alexis Conte e la lezione ai nemici dell'Europa così dunque il foglio proseguiamo andiamo su libero che titola così questo doppio riquadro grande buffone con la foto di Zingaretti Zingaretti affermò si legge lo dico davanti a tutti e lo dirò per sempre per me è quasi umiliante ripeterlo nessun governo con il Movimento 5 Stelle e no a un esecutivo parlamentare le elezioni restano la via maestra piccolo buffone con la foto di Di Maio l'altro titolo che leggiamo Di Maio garantì con il partito di Bibiano non voglio averci a che fare pd simbolo di corruzione e ruberie il male dell'Italia andiamo anche sul giornale torna al pd festeggiano Montepaschi e immigrati effetto giallorosso le parole del titolo la banca vicina ai dem vola più 13% e porti spalancati Conte apre il suc ma i numeri ballano ecco questo è un altro titolo ovviamente sulla situazione della formazione del nuovo esecutivo vi rimando come sempre per un confronto di tutte le prime pagine che saranno in dedicola e che saranno a disposizione ovviamente della nostra redazione per la nostra rassegna stampa per la cronaca inizierà come sempre alle 7 puntuali di domattina grazie intanto per la vostra attenzione per averci seguito fin qui noi vi salutiamo con Accade Oggi a cura di Guido Gomirato buona serata il 29 agosto 1966 nasce ad Arezzo Alessandro Calori che è stato difensore grande difensore dell'Udinese dal 1991 al 1999 in questo periodo tra Serie A e Serie B ha collezionato 257 presenze in campionato impreziosite di 10 gol nella speciale classifica di fedeltà si trova nei posti alti è superato soltanto da Totò Di Natale 385 presenze con l'Udinese poi da Zampa 328 Pinzi 305 280 di gare le ha disputate Luigi Zorzi 264 gare le ha disputate Galparoli 263 Feruglio quindi tocca a Calori essere ricordato nella classifica dei fedelissimi alla maglia bianconera con l'Udinese ha conquistato tre volte il pass per accedere alla Coppa UEFA ha conquistato un terzo un quinto e un sesto posto è stato uno dei protagonisti nel corso della sua iniziale avventura friulana della promozione in A dell'Udinese nel 91-92 ed è stato un esempio per tutta la squadra io lo ricordo come autentico leader dell'Udinese chiuse la sua parentesi friulana nel maggio del 1999 si dice non andasse d'accordo allora con l'allenatore Guidolin passò a Perugia e nella formazione Umbra fu grande protagonista nell'ultima giornata di campionato Perugia-Juventus vinta proprio dagli Umbri 1-0 con un gol di calore e la Juventus grazie alla prodezza del difensore perdette lo scudetto a scapito della Lazio per due anni poi giocherà nel Brescia per poi chiudere la sua carriera dal 2002 al 2004 nel Venezia ha intrapreso con alterna fortuna la carriera di allenatore io ricordo soprattutto il suo capolavoro alla guida del Portogroaro che ha condotto dalla serie C1 alla storica promozione nella cadetteria del Portogroaro Grazie a tutti.